Allora, siamo qua con Marco Perduca, terzo giorno dal CND di Vienna e Marco tu sei appena stato su un meeting con l'Africa, di Africa non si parla mai, ci vuoi dire qualcosa? Ora mai mai no, però molto raramente, questo era in particolare promosso dalla società civile africana assieme all'Unione africana e devo dire che l'Unione africana, a differenza dell'Unione europea, ascolta prima di prendere una decisione, hanno adottato una lunga dichiarazione che ha un preambolo forse un po' spropositato rispetto ai punti che si sono fissati, ma credo che anche in Africa si sia arrivati un po' dove siamo arrivati noi, e cioè da una parte si sconsiglia l'uso del diritto penale per governare il fenomeno, ma come secondo posto, piuttosto che preoccuparsi dei rischi del consumo problematico, si parla di un'altra cosa che è comunque sempre legata alle droghe, cioè l'accesso alle medicine essenziali. È un continente dove non esistono gli analgesici e dove però si continuano a bloccare partite di eroina o di oppio che vengono dal sud-est asiatico. Ecco, questo fatto che si bilanci col secondo punto una cosa che è necessaria, ma allo stesso tempo bloccata dalle Nazioni Unite che però auspicano un uso ragionevole e controllato di queste sostanze sotto controllo per fini medico-scientifici, la dice lunga. Ci sono poi anche state tutta una serie di dichiarazioni di Stati membri che includono nei pilastri della propria politica socio-sanitaria nazionale la riduzione del danno. Ecco, sarà interessante vedere come dalle parole poi i fatti si elaboreranno e si confermeranno. Sappiamo un po' per esperienza che in alcune parti del mondo si scrive tutto molto bene e poi non si fa mai nulla, però vedremo, grazie anche al monitoraggio delle ONG, cosa in effetti potrà succedere nel continente africano. La cosa importante è che comunque l'Unione Africana, che è in divenire anche con una commissione che fa un po' il verso della commissione africana, anche se è molto più piccola, è coinvolta e si sono candidati a ospitare una riunione continentale quanto prima di Sabeba, quindi magari chissà. Alla prossima CND invece di non parlare più di Africa o di parlarne solo a livello di società civile, se ne parla a livello governativo con un po' più di coordinamento riformatore. Ok, grazie. Invece un'altra domanda che ti volevamo fare era relativa a tutte quelle che sono le terapie con l'utilizzo di sostanze che sono tabellate. Questa conferenza rimanda la decisione sulla cannabis. Rispetto a tutto questo discorso, cosa ci dici? Intanto è il secondo rinvio di un voto molto importante perché, senza dire che lo aspettavamo da 70 anni, ma sono almeno 4 anni pieni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce agli stati membri di rivedere la tabellazione della cannabis, sia perché da una parte può finalmente avere, grazie al sostegno della letteratura scientifica, usi terapeutici, sia perché comunque in giro per il mondo molti stati o territori stanno cambiando le proprie leggi in materia di cannabis, marijuana, hashish, comunque la si voglia chiamare. Quindi buonsenso vorrebbe spostarla in un'altra tabella per aiutare i paesi che ancora non hanno modificato le proprie leggi nel loro rapporto con la Giunta internazionale sugli stupefacenti che ancora quest'anno invece non manifestava grande soddisfazione per il modo con cui si legalizza in giro per il mondo. La ricerca scientifica anche qua non viene mai citata, o meglio, non viene mai citata nella parte importante della Commissione, cioè quella plenaria dove parlano gli organismi delle Nazioni Unite e gli Stati, ma devo dire che quest'anno un po' poco emerge anche quando nei side event. E' strano perché nel 2020, all'inizio dell'anno, un comitato di esperti delle Nazioni Unite ha adottato un commento generale sulla scienza, interpretando l'articolo 15 del Patto Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, che è quello che appunto parla di ricerca scientifica, di condivisione della conoscenza e di diritto a godere dei benefici della ricerca scientifica. Questo documento, che dovrebbe essere adottato all'inizio di marzo formalmente, finalmente, alle Nazioni Unite di Ginevra, aveva due paragrafi e speriamo che ne abbia due o più rafforzati, addirittura tre, sull'uso medico-scientifico delle sostanze sotto controllo, facendo degli esempi. Non solo il classico esempio della morfina, che è comunque riconosciuta dall'OMS come una medicina essenziale, ma anche della cannabis per la cura del dolore e degli spasmi, e anche dell'MDMA nella psicoterapia da stress post-traumatico. Con una ulteriore raccomandazione che dice, quando gli Stati membri delle Nazioni Unite sono confrontati e per certi versi anche confortati dalle evidenze scientifiche, devono aggiornare le proprie legislazioni. Allora, noi abbiamo in giro per il mondo un volume di ricerche che finalmente si sta concentrando più sui benefici che non sui presunti malefici della cannabis, per dirne una. Ecco, sulla base di tutto questo grande studio, prove e in alcuni casi anche trial clinici, occorre che la conoscenza venga condivisa e poi se ne porti però il risultato di fronte ai forum dove si prendono queste decisioni. L'OMS, la sua l'ha già presa, toccherà alla Commissione Droghe a dicembre del 2020 assumersi la responsabilità di rispondere a questa richiesta di cambiamento di tabella. Se dovessero dire no, comunque l'OMS, ma anche i trattati internazionali, parlano chiaro. Ognuno a casa propria può fare quello che vuole e quindi se non ci vanno tutti insieme ci andranno uno per uno fino a quando poi le evidenze scientifiche e anche la reazione positiva di We the People, della gente che sottostà a questo regime legislativo, sicuramente avranno il vinto sulla base appunto di prove e non di ideologia. Grazie mille, ci vediamo domani.